Ben ritrovati, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. In apertura ci occupiamo della campagna vaccinale perché è partita anche a Brindisi la campagna vaccinale per la fascia di età 5-11 anni. Sentiamo le ultime novità e tutti i dati relativi alle prime 24 ore. Al via anche nell'asle di Brindisi la campagna vaccinale per la fascia di età 5-11 anni con circa 400 prime dosi somministrate. Nel pomeriggio di ieri dalle 15 sono partite le vaccinazioni dell'Istituto Comprensivo Cappuccini di Brindisi, dell'Istituto Comprensivo Manzoni Alighieri di Sandonaci e della Scuola Secondaria di Primo Grado Bianco Pascoli di Fasano. Sono 21 gli istituti scolastici del territorio provinciale che hanno aderito alle giornate di vaccinazione, uno per ogni comune della provincia e due per la città capoluogo. Gli allunni prenotati per la giornata di ieri sono stati circa 350. Per i bambini fragili la vaccinazione è organizzata dalle reti di patologia con la collaborazione delle pediatrie dell'ospedale Perrino di Brindisi e del Camberlingo di Francavilla Fontana. Già ieri i reparti hanno accolto i primi 40 bambini. Intanto prosegue la campagna vaccinale negli hub secondo il calendario previsto. Mercoledì 15 dicembre nell'Asl di Brindisi sono state somministrate complessivamente poco meno di 5.000 dosi di vaccino. In particolare tra le altre 115 nell'ambulatorio del medico competente dell'Asl, 700 nel centro anziani di Bozzano, 70 nell'ospedale Perrino a Brindisi. E ancora per la provincia, 725 nel centro commerciale Conforama di Fasano, 380 nel palazzetto dello sport di Ceglie Messapica, 240 nella palestra della scuola Falcone di Mesagne, 370 nel presso statico di San Vito dei Normani e 340 nella scuola primaria di Sandonaci. Le vaccinazioni a domicilio invece a cura dell'Asl sono state 200. Quelle in ambulatorio dei medici di medicina generale e dei pediatri di scelta libera, infine, sono state 812. Diamo uno sguardo ai contagi che si sono registrati nelle ultime 24 ore con l'ausilio anche della grafica. Ecco qui, 662 nuovi contagi in Puglia, 25.627 i test effettuati, una persona ha perso la vita. Andiamo a vedere nel dettaglio per quanto riguarda la provincia di Brindisi. Ci sono 100 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. In generale in Puglia ci sono attualmente 6.492 persone positive, quindi è un dato che continua a crescere. 142 sono le persone effette da Covid ricoverate in aree non critiche dei nosocomi, 26 invece le persone ricoverate in terapia intensiva. E intanto ad Ostuni c'è ancora polemica e non poco sul piano politico per la chiusura del lab vaccinale, sull'argomento intervenuto il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Valentina Palmisano. Per la seconda volta in pochi mesi Ostuni si ritrova senza un centro vaccinale incomprensibile il comportamento dell'amministrazione comunale. Così l'onorevole Valentina Palmisano del Movimento 5 Stelle, la parlamentare ha scritto nelle scorse ore al nuovo direttore generale della ASLA di Brindisi, Flavio Roseto auspicando un intervento immediato per l'allestimento anche nella città di Ostuni di un hub. Tutti sappiamo quanto sia importante vaccinare la gran parte della popolazione e vaccinarla in tempi brevi, questo per evitare che possano prendere piede delle varianti e quindi essere sempre noi a inseguire il virus e non invece noi a gestire e contenere questa pandemia. Ed è proprio in questa fase in cui è così importante poter fare la terza dose a tutti coloro i quali appunto abbiano già le prime due dosi, che il comune di Ostuni risulta sguarnito del lab vaccinale, che solo diciamo qualche tempo fa è stato chiuso per riconsegnare appunto la struttura, il pala sport alle società appunto sportive. Il che può essere anche giusto per appunto poter dare la possibilità a queste associazioni di continuare a svolgere le loro attività sportive, soprattutto in questo momento di difficoltà in cui è importante anche continuare a fare attività di questo genere. Però la carenza sta nel fatto che non si è prevista immediatamente o comunque prima di prendere questa decisione sulla chiusura, non si è prevista un'alternativa, un'alternativa per poter continuare le vaccinazioni nel modo migliore possibile. E dunque ho contattato direttamente il neo direttore generale Roseto dell'Azri di Brindisi per poter insomma porre una soluzione a questa situazione che vede appunto i cittadini di Ostuni dover per forza spostarsi, andare altrove per poter fare la terza dose o costretti a fare lunghe file sotto le intemperie per appunto attendere il proprio turno in un hub vaccinale insomma mobile del caso, insomma, oppure all'interno dell'unica farmacia che presta questo servizio. C'è un altro argomento che sta tenendo banco e non poco a Brindisi negli ultimi giorni, quello relativo ai disservizi che sono registrati nell'ospedale Perrino in riferimento al guasto che ha interessato la TAC. Sul persistente guasto della PET-TAC nell'ospedale Perrino di Brindisi non ci sono più giustificazioni che tengano a conferma di una sciatteria gestionale che caratterizza la sanità pugliese e in particolare quella brindisina. Così in un duro commento Pietro De Giorgio, segretario generale della CISL pensionati di Taranto e Brindisi. Io spero che finalmente questa macchina sia stata riparata, perché se non è così si pone un grosso problema perché è malato oncologico e per chi soffre di altre patologie, per cui la prevenzione è importante nella scoperta di questi mali dove si può intervenire in tempo. Tutta la situazione viene soprattutto poi aggravata dalla pandemia dove tra le liste di attesa che non si rispettano più e i malati di altre patologie non possono fare le terapie e non possono neanche curarsi in maniera preventiva. Per cui che cosa chiedo? Chiedo che i più bisognosi, in particolar modo i più anziani, ma generalmente tutti, che si possa intervenire al più presto affinché la situazione torni alla normalità. Perché chi era programmato per le PET-TAC già i tempi sono lunghi, adesso si stanno allungando ancora di più. Ha avuto modo di sentire qualcuno della ASL, di confrontarsi con qualcuno? No, 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 se non quello che leggo sui massi media. Che idea si è fatto rispetto all'impegno dell'ASL? Chiaramente in un momento particolare anche perché si sta insediando di fatto in queste ore il nuovo direttore generale. Guarda, io spero tra Pasqualone e il nuovo direttore che venire a accedere possono al più presto risolvere questo problema che non si ripeta mai più. Non so i danni che ha questa macchina. Credo che le responsabilità non sono da ricercare all'interno dell'ASL, perché non credo che siano tanto masochisti da non avere la volontà di riparare la macchina. Non so quali problemi ci siano, però io chiedo che al più presto la situazione dormi di nuovo alla normalità. Grazie e buon lavoro. Niente, grazie a te. Ciao. E' tutto pronto intanto per le prossime elezioni provinciali, elezioni di secondo grado, come sapete che non riguardano direttamente la cittadinanza. Quattro le liste che andranno a contendersi le elezioni in Consiglio provinciale e il nuovo presidente della provincia. Il presidente della provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, con un apposito decreto ha convocato per sabato 18 dicembre i comizi elettorali per lo svolgimento dell'elezione di secondo grado del Consiglio provinciale di Brindisi. La votazione si svolgerà dalle 8 alle 20 presso il Salone di rappresentanza dell'Ente. Sono in totale 339 gli elettori tra i sindaci e consiglieri comunali in carica dei 19 comuni compresi nel territorio provinciale di Brindisi dal momento che il comune di Carovigno risulta commissariato. L'elettore potrà esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista ed il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell'apposita legge. Le liste presentate sono quattro. Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia, Provincia Unita e Democratica e Brindisi Libera. Le operazioni di scrutinio dei voti saranno aperte al pubblico e avranno inizio domenica 19 dicembre alle ore 9. Dopo le polemiche delle scorse settimane il comune di Francavilla Fontana ha ottenuto un finanziamento di un milione di euro per il rifacimento delle strade cittadine. L'amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha approvato il nuovo elenco delle strade che nei prossimi mesi saranno interessate da interventi di rifacimento dell'asfalto. Ogni giorno, ha spiegato il sindaco di Francavilla Antonello Denuzzo, riceviamo segnalazioni relative a buche e manti stradali disconnessi. Abbiamo deciso per questo di annotare le rimostranze e intervenire secondo una scala di priorità che non escluda alcuna zona della città. I lavori, finanziati dalla Regione Puglia con 903 mila euro nell'ambito del programma Strada per Strada, consisteranno nello smantellamento del tappeto esistente e nel rifacimento del manto d'asfalto. Alle strade già indicate dai cittadini si aggiungono anche alcune arterie importanti della città degli imperiali che sono state indicate direttamente dall'amministrazione comunale. Queste strade facevano parte del precedente blocco di interventi interrotto a causa di cantieri programmati che avrebbero compromesso il manto stradale a pochi giorni dal suo completamento. Infine, dopo le festività natalizie, partiranno i lavori che trasformeranno completamente il volto di Via Roma donandole un basolato stabile ed elementi di arredo urbano. Stiamo lavorando su molti fronti, conclude il sindaco Antonello Denuzzo, per restituire alla cittadinanza una Franca Villa Fontana più efficiente dal punto di vista della viabilità. Sabato 18 dicembre, dalle ore 8.30 alle 12, nel piazzale della sezione brindisina della Lega Navale Italiana si terrà una raccolta di sangue organizzata dalla stessa Lega in collaborazione con l'Asla di Brindisi e il Comitato di Brindisi della Croce Rossa Italiana. Sarà presente un'autoemoteca nella quale i donatori di età compresa tra i 18 e i 70 anni potranno effettuare la donazione. L'invito è rivolto a chiunque, non soltanto ai soci della Lega Navale Italiana. Donare il sangue è un atto di solidarietà e può salvare una vita. Verranno effettuati controlli preventivi a tutti i donatori e tutti i donatori riceveranno le analisi. Ricordiamo che bisogna aver effettuato una colazione priva di latte e derivati o almeno due ore prima della donazione. A tutti i donatori verrà poi offerta una colazione presso il bar sociale della Lega Navale Italiana di Brindisi. Appuntamento dunque sabato 18 dicembre delle ore 8.30 alle ore 12. E adesso lo sport e il calcio è ufficiale. Brindisi-Cerignola inizialmente in programma domenica prossima nello stadio Franco Fanuzzi non si giocherà. L'emergenza Covid ha letteralmente travolto il Cerignola. Sarebbero almeno sei i calciatori positivi al Covid e a questi si aggiungono anche diversi componenti del gruppo squadra. Brindisi-Cerignola in programma inizialmente domenica prossima alle ore 14.30 nello stadio Franco Fanuzzi non si giocherà. Il Covid torna a farla da padrone sempre di più anche in Serie D. Spunta così un principio di focolaio in casa dell'audace Cerignola capolista del Girone H. All'interno dello spogliatoio giallo-blu sono emerse più di sei positività solo nell'ultimo giro di tamponi. La squadra allenata da mister Michele Pazienza con ogni probabilità dunque ha già chiuso il suo anno solare 2021. In generale il numero dei contagi si è alzato parecchio come è accaduto soprattutto nei mesi invernali viste le curve del virus dalla sua nascita. Sono state già tantissime le partite della categoria ad essere state rinviate a causa del Covid-19. Ora i pugliesi potrebbero vedere dunque finito in anticipo il loro 2021. Per quanto riguarda la situazione del Cerignola è un vero e proprio allarme. Sono emerse sei positività tra i calciatori nell'ultimo giro di tamponi e altre positività tra i membri del gruppo squadra. La situazione dunque non è affatto semplice. Per questo motivo la dirigenza del presidente Danilo IV si è mossa prontamente per chiedere alla Lega Nazionale di Lettanti di rinviare i prossimi due impegni a cominciare da quello di domenica prossima contro il Brindisi. E la Virtus Francavilla invece dunque andiamo in Serie C prepara la gara con la Juve Stabia. A due giorni dalla partita con la Juve Stabia Roberto Taurino fa la conta dei disponibili. Pierne e Maiorino non sono al top ma il tecnico biancazzurro potrebbe riuscire a recuperare almeno l'esterno classe 2001. Quest'ultimo dovrebbe dunque tornare ad occupare la fascia di destra dopo aver saltato il derby contro il Foggia a causa di un acciacco fisico. Allo Zaccheria è stato sostituito egregiamente da Carella che contro le Vespe comunque scenderà in campo dal primo minuto. Il giovane Brindisino sarà impiegato in mediana al posto dello squalificato Ceciua. Pierno non è però l'unico calciatore Virtus in dubbio. Bisognerà valutare anche le condizioni di Maiorino per il quale però trapela meno ottimismo. Nulla di eccessivamente grave per il fantasista Ionico che ha rimediato un problema al flessore. Taurino potrebbe preservarlo per il turno in fra settimanale schierando dal primo minuto Tulissi. Il debutto da titolare del classe 97 è atteso dai tifosi Virtusini a cui sono bastati pochi strappi di classe per innamorarsi dell'ex Modena. Gli stessi sostenitori Biancazzurri, in vista del match di domenica pomeriggio, potranno aderire ad una promozione speciale ed inedita. Sei un abbonato? Allora puoi portare allo stadio un amico gratis. In questo modo tutti coloro che hanno sottoscritto il secondo mini abbonamento per le cinque partite caselinghe dei Biancazzurri potranno portare a costo zero un proprio amico allo stadio. Quest'ultimo dovrà recarsi presso la sede di Via Quinto Egno assieme all'abbonato per ritirare il proprio tagliando d'ingresso. Un'iniziativa che va a legarsi alla promo che consentirà ai tesserati ASD Virtus Francavilla Academy di assistere gratuitamente alla partita. Sarà previsto un ingresso senza spese anche per un accompagnatore del tesserato, ammesso che faccia parte dello stesso nucleo familiare. Per un ulteriore componente sarà invece applicato uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto. Alla luce del grande successo riscontrato nella settimana di apertura al Museo del Basket, ieri e oggi la Stella del Sud a Brindisi prolungherà il periodo di permanenza fino all'Epifania. Una decisione presa in comune accordo con il Comune di Brindisi a fronte delle tante richieste ricevute dai brindisini erranti in giro per l'Italia di ritorno a Brindisi per le festività natalizie. E' davvero tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, tra poco c'è l'approfondimento con Il Fatto, parte tecnica curata dalla sede di Brindisi di Studio 100 TV da Alessandro Colavito. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.